Il consiglio da dare ai ragazzi, consiglio che condivide sicuramente anche Mirko Matteucci, che poi lo sottiamo, è un giornalista sul campo dei più audaci, è quello di andare sul campo e informarsi in prima persona affinché poi si possa informare meglio. Diciamo che mediamente mi occupo spesso di sfighe di questo tempo, quindi tutte mi pesano un po'. Ogni volta che vado in giro per i Domenica, a Grand Saint, Rosarno, Lampedusa, è difficile dare belle notizie. Si raccontano situazioni un po' pesanti spesso, quindi pesano un po' tutte, però si cerca di farlo con leggerezza, se possibile, affinché arrivino meglio queste storie.